7 giorni TG Al centro delle indagini le presunte irregolarità emerse durante i recenti controlli ed evidenziate sia dal sindaco di Fornari, Mario Foti, che della Presidente della Commissione Europea Antimafia, Sonia Alfano. I rifiuti accumulati nell'impianto avrebbero superato di 30 metri in altezza la misura prevista. Secondo il sindaco, inoltre, l'impianto metterebbe in pericolo le falde acquifere del comune. La Commissione parlamentare antimafia, inoltre, proprio nei giorni scorsi, aveva anticipato che avrebbe chiesto l'accesso agli atti e alla gestione della discarica, disponendo una verifica ispettiva del Comitato Antilocali della stessa Commissione. La società che gestisce l'impianto, Tire in Ambiente, aveva chiesto invece di poter chiudere per effettuare alcuni lavori di adeguamento. Con la chiusura di Mazzarra, oggi, si apre una fase di emergenza per Messina e per altri 70 comuni, che dovranno trovare un nuovo sito in cui scaricare. Al comune, stamattina, dove era preso la notizia della prefettura, l'assessore Daniele Iaracqua ha subito attivato un'unità di crisi. Convocati Messina Ambiente, Atotrae, il commissario regionale Scillufo e il Dipartimento Rifiuti. L'obiettivo è quello di trovare una soluzione in tempi rapidi e che possa essere soprattutto la più edonea. Stamattina i camion di Messina Ambiente erano già tutti pieni ed in fila all'interno del deposito di via Salandra si rischia l'ennesima emergenza rifiuti. Durissima missiva del gruppo Felice Permessina, l'indirizzo del sindaco e dell'assessore al bilancio Guido Signorino. A tenere banco sono ancora una volta i problemi economici di Palazzo Zanca. L'ultima delibera della Corte dei Conti richiama l'amministrazione comunale dichiarando che i tempi di avvio del risanamento dell'ente sono stati ripetutamente procrastinati, avvalendosi di disposizioni normative non sempre conducenti rispetto alle esigenze di tempestività. Mentre dalla Commissione Ministeriale, che deve dare l'ok al piano di riequilibrio messo a punto dall'amministrazione a Corinti, non giungono notizie, la Corte dei Conti scaglia l'ennesima tegola sul capo degli amministratori di Palazzo Zanca. Si sono dilatati oltre misura i tempi di presentazione del piano di riequilibrio, scrivono i magistrati contabili, frustrando conseguentemente il fondamentale interesse pubblico ad accedere tempestivamente alle procedure di risanamento. Commentando la missiva dell'organo palermitano, il gruppo Felice Permessina afferma che il ritardo nell'approvazione del piano di riequilibrio e il suo eventuale contenuto vacuo potranno incidere non poco sulla credibilità di un'amministrazione che a novembre non ha ancora consentito al Consiglio Comunale di approvare né il bilancio consultivo 2013 né il preventivo 2014. Non abbiamo votato il piano di riequilibrio ritenendolo non idoneo ad affrontare lo stato di crisi del Comune e il risanamento finanziario, scrivono i consiglieri del centro-sinistra. Siamo preoccupati per il contenuto di una delibera che richiama la responsabilità sia il Consiglio che la Giunta Comunale. Anche per questo il gruppo Felice Permessina invita il Vice Sindaco e il Ragioniere Generale a leggere con attenzione la delibera della Corte dei Conti e i richiami subliminali che contiene su eventuali responsabilità conseguenti e l'avvio della procedura di dissesto. Da superare c'è uno scoglio che non è certo cosa da niente, ci sono quei 20 milioni di passivo accumulati negli anni, l'ATM dell'era Foti sta risalendo la china. Da un lato la lotta senza quartiere alle mele marce, dall'altro la tolleranza zero con i portoghesi. I verbali a bordo di autobus e tram sono aumentati del 148%. C'è la possibilità di acquistare i biglietti a bordo degli autobus, così la vendita negli ultimi tre mesi fa registrare un 2,35% in più di incassi. Salgono anche di molto gli abbonamenti, sono stati acquistati il 13,77% in più di titoli. Contrariamente a quanto asserivano i detrattori dell'isola pedonale sale anche l'incasso determinato dalla vendita dei gratte e sosta, più 5,17%. Il direttore generale Foti annuncia delle altre novità, gli ausiliari della sosta dovranno elevare multe e chi impedisce la sosta regolare negli spazi blu. Sarà costituita della prima volta in ATM una rete commerciale, vie doppione nei punti vendita. La novità in vista per la stabilizzazione della mobilità è che l'ATM ha sì bisogno di informatici addetti al settore commerciale, ma chi entrerà dovrà passare una selezione. 7 giorni TG